Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di spaghetti 200 grammi di zucchine 3 uova 1 tuorlo 4 cucchiai di pecorino grattugiato 1 cucchiaio di prezzemolo tritato Olio Sale e aglio Preparazione Scaldare 3 cucchiai di olio con 2 spicchi di aglio Aggiungere le zucchine e cuocere a fuoco basso per 20 minuti Sbattere con una frusta le uova e il tuorlo con il pecorino Cuocere gli spaghetti Scolarli al dente e rovesciarli nelle uova Aggiungere subito le zucchine dopo aver eliminato l'aglio e il prezzemolo tritato Mescolare bene e servire Il piatto è pronto Buon appetito